questo cosa ne penso riguardo di questa situazione del virus bla 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 io penso che a me non frega niente io continuo a uscire a divertirmi quando morirà una persona di età tra i 20 e 30 40 comunque una persona giovane in salute in salute e morirà o si ammalerà gravemente a causa di questo virus allora lì mi preoccuperò fino a quel momento i don't give a shit i don't give a shit bitch